buonasera dagli studi della job black production dove qualche minuto fa si sono esibiti gli lg of madness siamo qui con la cantante stefania irullo allora stefania partiamo subito da un bilancio di questa bella serata in acustico guarda alex è stato molto molto bello perché la prima volta che proponevamo una serata interamente in acustico dopo 13 anni quindi è stato il il set diciamo esclusivo per per questa occasione ringrazio ancora giovanni orlando e tutto lo staff della job black production domani ci sarà ovvero specifichiamo meglio domenica ci sarà crispiano un altro grande evento che vi vedrà protagonisti lanciamo un appuntamento agli appassionati e i vostri fan esatto domenica 28 vi aspettiamo al blacksmith pub a crispiano dovete venire perché questa volta la formazione scusate sarà in elettrico e quindi sarà uno spettacolo interessante parliamo del progetto le job madness dal 2006 una band consolidata anche in tutta europa come è nato il progetto e raccontaci un ricordo il più particolare il più significativo allora guarda il primo ricordo fa anche un po ridere in realtà perché nel 2006 io ero una bambina insomma ero ancora minorenne e la prima primissima prova che feci con gli elegy of madness insomma fu in uno scantinato ovviamente come si fa per tutte le band però la prima persona che conobi era proprio toni ed era seduto quindi nel momento in cui si alzò in piedi ebbi quasi un attimo di terrore perché toni alto due metri quindi ho questo ricordo proprio da da ridere perché poi tante tante persone dicevano ah ma sai noi ci ricordiamo di voi perché tu sei quanto la sua gamba e quindi vabbè a parte questo che può essere anzi sicuramente vero ehm dal 2006 io ho cominciato poi gli studi e loro rappresentano per me eh il vero percorso di crescita musicale eh e siamo arrivati poi a produrre ormai quattro album appunto hai accennato quattro album parliamo della discografia e soprattutto le tematiche dei vostri brani e i modi di composizione ok allora nel 2006 fu subito pubblicato 2006-2007 un demo di eh pochi brani che si chiama Another Path eh e poi ci sono gli album effettivi che quindi sono eh il primo The Bridge of Sykes e poi Brave Dreams e per finire con New Era che è l'ultima nostra eh composizione e ovviamente possiamo anticiparlo che eh siamo in produzione per il nuovo album che uscirà nel 2020 ehm per quanto riguarda i testi le tematiche noi eh amiamo comunque il fatto di dover eh trasmettere in musica quello che abbiamo dentro quindi sono riflessioni di vita esperienze di vita ehm leggende che ci hanno ispirato eh fatti di vita quotidiana e tutto ciò ovviamente poi eh viene sistemato in maniera metrica millimetrica e eh e viene seguito dalla musica eh di cui si occupano principalmente Tony, Salvatore, Larry e anche Luca ma vi do questa anticipazione per il nuovo album non è più esattamente così il nuovo album è concepito dalla band un'ultima doppia domanda un messaggio agli appassionati di musica in generale ma soprattutto un messaggio a farli riavvicinare al comprare i cd ad andare ai concerti a seguire le band magari locali e poi il brano in cui tu ti rispecchi maggiormente qual è e perché? Beh guarda Alex sicuramente il brano in cui sento più la vicinanza eh con quello che ho dentro è un brano di cui non posso dirti il titolo e che ovviamente farà parte del nuovo lavoro discografico e quindi spero di potertene parlare più in là perché è quello che adesso rappresenta la mia piena trasformazione anche di vita eh questo è un lavoro che ha eh come dire tradotto in musica anche dei grossissimi cambiamenti ma anche proprio di vita eh personale non solo miei ma anche di tutti gli altri e quindi eh insomma sarà bello eh farvelo sentire e vedere se ci sono riusciti a fare questo ci siamo riusciti a trasmettervi eh questa sensazione questo stato d'animo anche in musica ehm messaggio allora il messaggio ehm non esisterebbe musica se non ci fossero gli ascoltatori se non ci fosse chi eh sostiene il il musicista eh non ci sarebbe musica se non ci fosse l'energia che è la cosa che veramente contraddistingue la musica l'esecuzione rispetto alle arti lo scambio energetico che c'è tra il musicista e il pubblico e che è la parte più importante che almeno io porterò eh per tutta la vita nel cuore non dimenticherò mai alcune emozioni che poi sono le stesse che si ripetono eh durante ogni serata eh che che proponiamo io ringrazio Stefania Irollo, Agna Inarte, ringrazio la Job Black Production, Giovanni Orlando, Enrico Losito per Blu Note da Alessio Petrallo e Totto, alla prossima! Grazie a tutti!